Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da GodAlf che mi chiede di parlare del film del 1954 di produzione americana del grandissimo Alfred Hitchcock La finestra sul cortile. Ora, La finestra sul cortile è uno dei film più copiati al mondo, un film del quale mi sento un po' inutile nel parlarne, però è un film mostruoso con un clamoroso James Stewart, una splendida Grace Kelly, in questo cult totale dove il McGuffin appunto del nostro protagonista serve a mandare tutto avanti, nel senso che il nostro praticamente si è rotto la gamba e è costretto a stare una settimana in casa praticamente, nonostante venga a trovare la sua ragazza appunto Grace Kelly, il nostro comunque sta lì sulla sedia e incomincia col suo binocolo a osservare tutti i vicini che ha davanti che praticamente gli passano avanti la giornata, vari tipi di personalità, fino a quando un giorno da una coppia che stava già seguendo non sente un urlo ed è convinto praticamente che quest'uomo abbia ucciso la moglie. Nessuno li crede ma lui continua a indagare fino al bellissimo finale. La finestra sul cortile è un film che funziona sotto tutti i punti di vista, il tratto da un romanzo omonimo di Conor Warwick sceneggiato da John Myers per una regia di Hitchcock straordinaria, ripeto, è tutto ricostruito in studio, la Paramount dovrebbe fare un casino per ricostruire tutto quel palazzo perché era veramente difficilissimo la fotografia, il nostro dovrebbe posizionare quattro tipi di fotografia diversa per ogni tipo di appartamento per fare la mattina, il pomeriggio, la sera e la notte, quindi una cosa molto particolare, ripeto, un grandissimo Raymond Dur a fare Lars, il presunto assassino così come splendida Thelma Ritter a fare appunto Stella, l'infermiera di mezza età che si prende cura del nostro. Allora, il film è tutto lì in realtà, poi è tutta una discussione incredibile sulla tensione, sul creare la tensione, sul voyeurismo, su che cos'è il cinema, anche se noi stiamo guardando quello che sta guardando un altro, a livello teorico il film è mostruoso già di partenza, tre piane di visione che portano alla stessa in un certo senso. È appunto una riflessione su cosa in realtà l'essere umano fa quando va al cinema, osserva la vita degli altri, questo fa un po' il nostro con il binocolo, inserendosi proprio all'interno e facendo praticamente conoscenza di vari personaggi di ogni tipo, fino appunto a non cadere in questo omicidio che il nostro è convinto di vedere. Il film poi è girato a colori in una maniera meravigliosa con una fotografia di Robert Burks, di quelli che lasciano veramente il segno, un film mostruoso a livello tecnico, Hitchcock qui fa dei lavori clamorosi quasi tutto da lontano, un film che si avvicina essenzialmente in determinati punti e che lo fa attraverso una scelta di montaggio assoluta. Una colonna sonora spaziale di Franz Wachsman che veramente incornicia il tutto, ma poi è un film che crea tensione dall'inizio alla fine e non succede quasi niente, in un certo senso quello che succede è tutto un cercare di capire, un cercare di rimandare la scena in cui manda Grace Kelly vicino al palazzo e vede lui che torna, è di un'ansia incredibile come tutte le scene col canino, tutte le scene appunto che vediamo in realtà che ammorbidiscono con ironia la solita ironia di Hitchcock e dei vari personaggi che poi alla fine vediamo risistemati, diciamo così, dentro il palazzo, è veramente notevole. Così poi come tutta messa in scena, ma questo è un capolavoro assoluto del ritmo, della tensione, della creazione, della paura. Siamo di fronte veramente a un film magistrale che sono passati quasi 70 anni ed è nuovo come fosse uscito ieri l'altro in realtà perché è un film clamoroso da quel punto di vista lì, non c'è mai un mezzo passo falso, non c'è mai un'inquadratura di troppo, non c'è mai un momento di troppo. Un film è perfetto in tutto, un capolavoro assoluto, è un film che ha dato in là a tutti i film con qualcuno che vede un omicidio da una parte che fosse appunto la voglia di Palmiana, di Omicidio e di Luce Rosse e di altri di volerlo citare, che fosse la voglia di rubare tipo Disturbia, che fosse la voglia di altri 7804 film che fanno vedere l'omicidio come la finestra sulla camera da letto, che sono anche belli, ma insomma la partenza è sempre questa. E non tanto per il soggetto di libro, ma proprio per come viene messa in scena e per come viene data l'idea appunto del film, che vuole seguire quello di Hitchcock, ma nessuno chiaramente mai è riuscito minimamente a avvicinarsi. Mi dispiace per il remake fatto per la televisione con Daryl Anna e il povero Christopher Reeve prima che morisse sul letto, che lui era anche bravo, il film non era però di qualità e non aveva minimamente la forza d'urto di questo film, che è veramente incredibile. Crebile nei rapporti umani, i dialoghi fra lui e Greschelli sono eccezionali, così come quelli con Stella. Sono perfetti tutti i rapporti che lui riesce a creare con persone che nemmeno conosce, che stanno di fronte a lui. E un'altra volta c'è un lavoro, ripeto, a livello tecnico, spropositato, che si unisce a un livello artistico, proprio a livello di concezione, dell'inquadratura, delle ogemetrie, dei movimenti di macchina che solo il grande Alfredone poteva avere. Quindi è inutile, ho perso anche troppo tempo. La finestra sul coltino è un film che tutti dovreste avere. Compratelo al volo, mettetevelo lì e guardatelo 6.000 volte, perché tutte le 6.000 volte che lo vedrete sarà sempre come fosse la prima volta, perché è veramente un film indimenticabile. Un'opera totale, trasversale, che aiuterà il cinema thriller, il cinema poliziesco, l'horror, il giallo, tutto passerà da questa messa in scena, che è straordinariamente avanti. Hitchcock era un genio e questo film è ancora qui a dimostrarlo. Qui sotto c'è il link per comprare il film, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale. Qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube. Seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E ripeto, la finestra sul cortile, il link qua sotto, l'ho comprato ogni osto.